Va bene, allora iniziamo la settimana con un nuovo argomento, quindi spero che in queste settimane abbiate avuto voglia e modo di ripassarvi un pochino di base di dati, perché adesso aggiungiamo al nostro, diciamo così, al nostro, come si chiama, toolbox, al nostro cassetto degli attrezzi, ecco, anche i database oltre alle collection e alle interfacce grafiche, quindi cominciamo a costruire applicazioni un pochino più articolate. Dal punto di vista degli strumenti operativi, se ci rilacciamo all'installazione del software che abbiamo fatto all'inizio del corso, abbiamo due software che utilizzeremo, uno è di fatto invisibile, cioè il database server stesso, il DBMS server, che vi ricordo, o abbiamo installato MySQL Community Server, oppure abbiamo installato MariaDB, oppure abbiamo installato un pacchetto come XAMPP che al suo interno integra già praticamente MariaDB. MariaDB della sua storia di fatto è una variante, un fork, una biforcazione dello sviluppo di MySQL, quindi dal nostro punto di vista sono praticamente equivalenti. E poi avevamo scelto perlomeno due programmini, per chi usa Windows questo ha i DSQL, per chi usa il Mac invece c'è un altro programma che si chiama SQL Pro, come interfaccia grafica comoda per la gestione del database stesso. Noi non dobbiamo necessariamente impazzire, così, nella costruzione delle tabelle, nella costruzione del database, abbiamo uno strumento di sviluppo abbastanza comodo, e adesso su questa macchina qua ho installato già il database, MariaDB lo vedete, non si vede nulla, però se andiamo a prendere i servizi della macchina, trovate da qualche parte sotto la lettera M, MySQL, un servizio, anche se è installato in MariaDB, lui si installa con il nome MySQL, per facilitare, diciamo così, eventuali programmi che si aspettino questo nome MySQL. In fase di installazione potete aver deciso che il database dovesse partire in automatico, e allora ve lo trovate già in stato running, altrimenti potete aver deciso di installare il servizio, ma non farlo partire automaticamente. Allora in questo caso si usano questi comandi per fermare o riavviare, o start, o avviare da zero il database nel momento in cui sia spento. Quindi se avete magari un portatile e quindi non usate pesantemente il database, conviene tenere lo spento e accenderlo andando nei servizi del sistema operativo. Così come potete anche qua decidere se l'avvio sia automatico oppure manuale. Questa è la normale gestione dei servizi di Windows, ma per evitare essenzialmente che vi usi memoria e batteria quando non vi serve, lo potete spegnere. In realtà se non vi serve non è che consumi più di tanto batteria, se non un pochino all'avvio della macchina. Dopodiché questa è l'unica cosa praticamente che riusciamo a vedere del server, perché come tutti i server si mette lì in ascolto di comandi. Quindi noi possiamo collegarci a questo server che gira sulla macchina locale da un'interfaccia, ad esempio .mariadb, ci sono ID SQL, in cui scelgo ad esempio di collegarmi alla macchina locale, quindi il ID SQL supporta vari tipi di database e mi chiede di autenticarmi come utente al database. Occhio a questo numerino qua di porta, 3306 è il numero di porta di default di MySQL, ma in alcuni casi, soprattutto per chi ha un Mac, di solito tendono a esserci due versioni di MySQL installate. Una che se la installa già il Mac di suo, per i fatti suoi, e un'altra che vi installate voi, ad esempio installando XAMPP. Allora in questo caso girano su due porte diverse, quindi dovete andare a vedere nella configurazione ad esempio di XAMPP qual è la porta su cui è stato installato MySQL e collegarvi al numero di porta corretto. altrimenti, se avete normalmente una versione sola, è la porta 3306 che è il valore di default. E ovviamente qua, se ci colleghiamo con l'utente root, abbiamo tutti i privilegi possibili, poi sarebbe buona prassi creare degli utenti meno privilegiati, ma diciamo così oggi non ce ne occupiamo ancora, con la password di root che avete dato quando avete installato il database server. Quindi nel caso di XAMPP, se non sbaglio, mette un utente root senza password, con una password vuota, ma negli altri casi con un'installazione così manuale avete dovuto scegliere una password di root. Se la siete dimenticata, è un problema, dovete rifare l'installazione da capo. Io ho messo, per non dimenticarlo, root come password dell'utente root che non è sicuramente consigliabile, però è un punto di partenza, lavorando solo sulla singola macchina. Ecco, questo è un esempio dell'interfaccia di ID SQL, dove vediamo i vari database caricate sulla macchina all'interno di un database, le varie tabelle. Di ogni tabella possiamo vedere sia la struttura, quindi le righe che lo compongono, sia i dati, sia la possibilità di scrivere delle query e vedere risultati qua sotto. Quindi un ambito, forse avete usato PHP MyAdmin l'anno scorso, nel corso di base di dati, per fare cose di questo genere. Questo è un pochino più veloce e snello rispetto all'altro, rispetto a PHP MyAdmin. Vabbè, teniamo la finestra aperta perché ci potrebbe servire. Come facciamo, altra operazione operativa, prima di passare veramente alla programmazione in Java, ad aggiungere, a caricare un database all'interno di questo DBMS, all'interno di MyAdb? Io qui ho dei database, poi magari facendo esercizi diremo, usiamo questo database. Ecco, una volta che io ho un database, come faccio a importarlo dentro DBMS, dentro la mia coppia di... Allora, i database si esportano e si importano in formato SQL. Quindi, ad esempio, per prendere uno che useremo il più semplice che abbiamo, tra i vari dataset, io li sto guardando qua dalla pagina del corso, c'è questo che si chiama dizionario, e questo dataset in formato SQL corrisponde in realtà a un file zip, che ho creato, che dentro, dentro questo file zip, c'è un file SQL. Cioè, quando io devo importare un database, di fatto mi danno un file SQL che contiene le istruzioni SQL, create table, insert into table, eccetera, per ricreare sul mio database, sulla mia macchina, esattamente quel database. Quindi, l'operazione che dobbiamo fare, quando vogliamo, io adesso l'ho già fatta, quindi per non perdere tempo, per non avere imprevisti, ma di fatto, per importare un nuovo database, dobbiamo fare un'operazione qua di carica a un file SQL. Dentro questo file SQL ci può essere qualunque cosa, nel nostro caso ci saranno le istruzioni per creare un intero database da zero. E quindi, ad esempio, in questo caso, c'è questo Mark SQL, che è il contenuto di quello zip, che vi ho fatto vedere prima. Quindi, se ve lo siete scaricati, lo troverete dentro, dovete scompattare lo zip. E, vabbè, in questo caso ID ci chiede se vuole semplicemente eseguire il file, oppure caricarlo nell'editor. Se io lo carico nell'editor, ci vuole un attimo, perché è un po' lungo. Lui lo vede come una query, quindi è andato nella finestra query, e qui dentro vedete che ci sono istruzioni, crea database, crea tabella, inserisci nella tabella una serie di dati, eccetera, eccetera. Quindi ricrea essenzialmente la struttura del database. Quindi, una volta che l'avete fatto, potete fare run, esegui il SQL, e in questo caso io ce l'ho già fatto, quindi mi dovrebbe dare un errore, perché mi dice che c'è già il database. Ah no, no, perché lui prima lo cancella e poi lo inserisce. Vedete che ci mette un attimo per fare le varie insert e ricreare il database completo. Quindi, quando qualcuno vi dà un database, l'operazione da fare è essenzialmente caricare il file SQL. A volte dà qualche errore, qualche warning di caricamento. E quindi qua abbiamo una tabella, il database, con una tabella sola. Questa tabella ha questi campi ed ha questi dati. Qui, diciamo, quelli sono i vari tab su cui ci muoviamo all'interno di ID, che è semplicemente un editor di query SQL. Se volessimo fare l'operazione inversa, cioè voi avete fatto un database, lo volete salvare, lo volete esportare, lo volete salvare i dati da qualche parte, l'operazione che dobbiamo fare è quella di esportazione. Vedete qua c'è una voce, esporto il database come SQL. Qui ci avete fatto delle query, ci avete inserito dei dati, e poi lo volete salvare, magari per far valere una copia, un backup di sicurezza, oppure per mandarlo a qualcun'altro, per caricarlo su un'altra macchina. Allora c'è questo esporta come SQL e c'è una finestra di dialogo che ci chiede essenzialmente quali tabelle vogliamo esportare, se mettere in un file unico, in un file separati, eccetera, eccetera, ma sono tutti dettagli di esportazione, essenzialmente, che ci permettono di creare un file all'interno del quale c'è il dump del database, viene riversato il database sotto forma di comandi SQL. Quindi SQL non è solamente la lingua di interrogazione, ma diventa anche praticamente la lingua di trasferimento. Ci sono altri modi, uno potrebbe fare il dump in CSV, o come forma di file Excel, eccetera, ma avrebbe i dati, ma non avrebbe più tutte le definizioni delle tabelle, ma non solo delle tabelle, anche di tutto ciò che non abbiamo citato oggi, ma tutti gli indici, chiavi esterne, eccetera, che saranno fondamentali per le prestazioni delle nostre interrogazioni. Ok. Ci ritorneremo, diciamo, dal punto di vista operativo, ma una volta che abbiamo un database, diciamo, caricato, il nostro server MariaDB è pronto, con dei dati, ad esempio qua c'è, non so, questo dizionario di tutte le parole della lingua italiana, come facciamo ad accedervi dal nostro programma? Allora, ci occupiamo di questo oggi, come accedere al database attraverso la libreria che in Java si chiama JDBC. JDBC è una libreria che permette a un programma Java di accedere ai dati all'interno di qualunque base di dati relazionali. Di fatto permette da un programma Java di eseguire delle istruzioni SQL, o meglio, di far eseguire il database relazionale delle istruzioni SQL e recuperare i risultati delle interrogazioni stesse. Quindi se faccio una query, poi il programma Java può avere risultati. Ovviamente queste query possono essere anche personalizzate con i dati dell'utente. Pensiamo al libretto, all'esercizio del libretto, quando devo inserire un nuovo voto, i dati di quel voto li inserisco io. L'inserisce l'utente e quindi poi il programma Java dovrà comporre un'istruzione di insert che manderà poi al database, affinché il database inserisca questo nuovo dato, questo nuovo record. JDBC è la tecnologia standard nell'ambito Java per fare questo tipo di cose e le classi di JDBC sono, qui ci sono alcuni link con la documentazione, con alcuni tutorial, se volete leggervelo per conto vostro, ma di fatto vedremo insieme le cose più di base per partire. Le classi che ci interessano sono all'interno di due package che sono Java SQL e JavaX.sql. La maggior parte sono dentro Java.sql le classi che ci interessano. Quindi questi sono i package Java standard, nell'albria standard non abbiamo bisogno di installare, finora non abbiamo bisogno di installare nulla di particolare. Facciamo attenzione che JDBC standardizza una parte dell'interazione tra programma e database. I database razionali, sì, sono belli, sono anni che esistono, sono efficienti, eccetera, ma non sono proprio del tutto intercambiabili. Cioè esiste uno standard SQL, però come tutti gli standard ciascun vendor di database ne implementa delle estensioni leggermente diverse, delle varianti leggermente diverse, soprattutto su alcuni aspetti tipo che ad esempio la gestione delle date o cose di questo genere. Ma quindi l'SQL di Oracle e l'SQL di MySQL e l'SQL di Postgres, che è un altro database open source, nelle parti fondamentali, sì, sono compatibili, ma se uno scrive delle istruzioni un pochino più avanzate, magari ci sono delle incompatibilità. Adesso c'è questo tizio qua, di cui c'è il link, che ha creato praticamente una pagina web in cui cerca di confrontare le diverse implementazioni di SQL, quindi vedete sui database essenzialmente più utilizzati, e quindi caso per caso ci dice, guarda che se tu vuoi fare, che ne so, una create table, lo standard SQL dice così, ma poi Postgres ha questa differenza, MySQL ha questa altra differenza e così via. E quindi va avanti pagine e pagine, per cui se avessimo la necessità di sviluppare un'applicazione che sia in grado di lavorare con più database contemporaneamente, bisognerà lavorare in qualche modo su queste differenze, tenerne conto. Allora, JDBC su queste differenze del linguaggio SQL non mette becco. La query ce la dobbiamo comunque scrivere noi, e siamo noi che dobbiamo scriverla in modo compatibile col database verso cui questa query dovrà essere eseguita. Quindi non ci aiuta in questo. In che cosa ci aiuta JDBC? Ci aiuta nell'altra metà della standardizzazione, cioè la comunicazione tra il programma e il database stesso, perché anche questa non è per nulla stata standardizzata. dal punto di vista proprio dei socket di rete, della comunicazione di rete, noi abbiamo un processo, che è il nostro programma, abbiamo un altro processo che gira, che è il database server, che possono essere sullo stesso computer, o possono essere su computer diversi, e questi due si devono parlare. Allora, che messaggi si scambiano? Con che protocollo? Con che struttura? E questo, ciascun vendor di database ha inventato la sua. Si è inventato il suo modo per poter far comunicare un'applicazione client con il suo server. Allora, tutte queste varie differenze nella connessione e nel protocollo di comunicazione tra applicazione e server, invece, vengono gestite da libreria JDBC. Quindi io posso collegarmi a un qualunque database in modo praticamente identico, indipendentemente dal tipo di database che sto usando. mentre invece poi dai qui richiamando o rimangono i limiti delle SQL standard oppure devo tener conto di quelli che sono i dialetti implementati dalle varie implementazioni. Ok. Quindi, per gestire questo, questa possibilità, JDBC non è la libreria per collegarmi a MySQL, è la libreria per collegarmi a qualunque database relazionale. E quindi l'architettura di JDBC è fatta su più livelli. Qua sopra abbiamo Java Application, quindi il nostro programma. Qua sotto abbiamo i dati. Ah, o meglio, abbiamo il DBMS che contiene i dati. E qui ci fa vedere altri esempi. Esempi di database diversi. Ok? Non ci interessa quali sono. Sono vari database. Allora, affinché l'applicazione possa comunicare col database, vengono definite nello standard JDBC delle API, cioè delle chiamate, dei metodi, delle classi, delle interfacce, soprattutto delle interfacce. Dicono, guarda, adesso le vedremo, per aprire una connessione devi fare questo, per creare una query devi fare questo, per vedere i risultati devi fare questo. La maggior parte di queste, definite nello standard JDBC, la maggior parte sono interfacce. La classe che implementa queste interfacce la fornisce il fornitore del database, all'interno di un pacchetto che si chiama JDBC Driver. Quindi, la libreria JDBC è spezzata in due metà. La metà sopra è standardizzata, è un pacchetto standard di Java, Java.sql, ed è agnostica rispetto al database. La parte sotto è l'implementazione delle classi definite o delle interfacce definite nella parte standard ed è specifica di ciascun database. Quindi, mentre questa parte sopra ci arriva nell'installazione di Java, la parte sotto, il JDBC Driver, ce la dobbiamo installare noi. O meglio, quando creiamo un progetto dobbiamo aggiungere al progetto il jar, la libreria, che contiene questo JDBC Driver, perché lo standard da Java non è detto che lo sappia. Il ponte tra questi due è una classe intermedia che si chiama Driver Manager, che è una classe implementata nello standard che ha l'unico scopo nella vita di essere in grado di caricare un driver vero e proprio. Quindi, tutte le operazioni che faremo verranno implementate qua sotto, ma noi le programmeremo con un'interfaccia standard che ci permette, subito dopo l'istanziazione del driver da parte del Driver Manager, ci permette di ignorare che cosa sta sotto. Ok? Quindi l'applicazione Java in teoria, in teoria, se non ci fosse il problema dei dialetti delle SQL, in teoria non sa con quale database, non ha bisogno di sapere con quale database sta dialogando. Questa è un po' la critica generale, che ci richiederà ovviamente di fare una connessione in due passaggi. Prima devo caricare un driver per la mia connessione con il mio database e poi parlando col driver dovrò chiedergli di fare delle cose. quindi questo significa che ogni volta che vogliamo dal nostro programma leggere dei dati, che ne so, dimmi qual è la parola più lunga che è nel dizionario, oppure dimmi tutte le parole che iniziano con la lettera Z, qualunque equilibrio che possa venire in mente, dobbiamo seguire questi sei passaggi, questi sei passi, sempre. Allora, adesso li vediamo cercando di capire lo standard JDBC che cosa ci chiede di fare. Poi faremo un passo nostro in termini di interiorizzazione di questi passi cercando di capire come è più opportuno infilarli all'interno di un'applicazione Java, anzi JavaFX, dove abbiamo già la vista, il controller, il modello e adesso questo database dove lo ficchiamo. Il database a livello di architettura sarà di supporto al modello. se il modello è quello che deve decidere i dati, parte dei dati sono sul database. Quindi, in qualche modo sarà il modello che la classe o l'insieme delle classi che dovranno usare il database. Però di questo, di come integrarlo nell'MVC ci pensiamo tra un attimo. Prima cerchiamo di capire quali sono le basi. Allora, questi sono i sei passaggi che li vediamo uno per volta. Ovviamente come premessa di tutto io devo avere non solo installato il database ma anche scaricato e installato un driver JDBC fornito dal fornitore stesso del database. Allora, proprio per la storia mutua di MariaDB e MySQL noi possiamo scaricare il driver JDBC fornito da MySQL oppure il driver JDBC fornito da MariaDB che è un pochino più sgualfo come funzionalità ma entrambi vanno bene nel senso che sono intercambiabili. Per quanto riguarda il driver JDBC fornito da Oracle di fatto da MySQL loro lo chiamano MySQL Connector barra J J sta per Java trovate MySQL Connector barra C barra SQ barra altri linguaggi quello che ci interessa è ovviamente barra J se vi scaricate questa roba che lo trovate sul sito di MySQL trovate uno zip che all'interno contiene un questo l'abbiamo nel video di installazione lo scaricamento di questo oggetto qua che si può scaricare tranquillamente la versione platform independent intanto è scritto in Java e ci dà uno zip all'interno di questo zip c'è un jar andiamo a vedere se riesco a trovarlo dovrei averlo qua l'ho scaricato se non sbaglio qui eccolo qua MySQL Connector Java questo è lo zip che contiene una cartella che a sua volta al suo interno un po' di cose tra cui c'è il sorgente stesso del driver JDBC quindi se siamo curiosi possiamo andare a vedere come è fatto ma ciò che interessa a noi soprattutto è questo MySQL Connector Java numero di versione punto jar questa è una libreria jar una libreria Java che contiene l'implementazione del driver JDBC io per comodità mia questa libreria l'ho estratta l'ho copiata fuori dallo zip è l'unica cosa che ci serve il resto ci può servire forse nella documentazione non è qua in un altro file quindi questo file qua è l'unico che ci serve e dobbiamo estrarlo dallo zip per poter utilizzarlo in termini dei nostri programmi e vediamo tra un attimo come quindi teniamo aperta la finestra che ci dice dove abbiamo salvato il driver ok quindi ci siamo dotati di un file jar che contiene il driver e all'interno come tutti i file jar contiene delle classi quindi possiamo forse anche vederlo com mysql jdbc driver quindi vuol dire che questo è un file punto class quindi un file jar compilato qui dentro c'è una classica che si chiama com punto mysql punto jdbc punto driver quello lì quella è la classe che ci serve che è implementata dentro questo dentro il package com punto mysql punto jdbc e si chiama ovviamente driver quella classe quindi scritto qua è quella che ci serve ma non la dobbiamo vogliamo vedere direttamente noi non andremo mai a istanziare quella classe non faremo mai un new di quella classe lì perché altrimenti il nostro programma sarebbe legato mani e piedi a mysql noi useremo e lo vediamo tra un secondo il driver manager che è il meccanismo di jdbc che ci permette di caricare lui qual è il driver giusto a seconda del database a cui si deve collegare quindi una classe che sappiamo che c'è ma non useremo mai questa classe implementa tutta una serie di funzionalità ma noi le richiameremo sempre in modo indiretto e adesso vediamo come quindi noi dobbiamo dire alla libreria jdbc dare alla libreria jdbc sufficienti informazioni affinché la libreria jdbc sappia quale driver ci serve a quale database collegarci a quale database collegarci vuol dire a quale dbms su quale server gira con quali credenziali e quale schema aprire allora tutte queste cose sono codificate in una stringa c'è una stringa di connessione connection url una stringa di connessione nella quale codifichiamo impacchiamo tutte queste informazioni questa stringa contiene tutte le informazioni sufficienti per poter definire in modo univoco a quale database mi voglio collegare quali sono le mie credenziali e qual è il driver che deve caricare dal punto di vista di java è semplicemente una stringa il cui formato esatto in realtà dipende dal tipo di database però dal punto di vista java è sempre una stringa nel caso di mysql la stringa è fatta così allora la stringa inizia sempre con la stringa di connessione parliamo di connection url jdbc due punti che dice guarda questa qui non è una url web http ma una url jdbc jdbc due punti ok deve cominciare con i primi 5 caratteri sono fissi ce li siamo tolti poi viene un identificatore della tipologia di database a cui mi voglio collegare nel nostro caso mysql che va bene anche per MariaDB se fosse oracle sarebbe scritto oci8 oci9 oci10 secondo la versione se fosse postgres si sarebbe scritto pgsql e così via quella è la parte della stringa che definisce qual è il tipo di database di bms a cui mi collego e di conseguenza permetterà di caricare la classe driver giusta poi segue due punti slash slash l'host su cui gira il database su quale macchina gira allora per noi quindi jdbc mysql slash slash è la parte fissa per noi poi viene host e due punti porta normalmente l'host sarà localhost se stiamo collegando sul server di bms che gira sul nostro computer oppure l'indirizzo o il nome di un'altra macchina su cui sta girando questo server nel caso in cui la porta non sia la 3306 dobbiamo indicarla con la sintassi due punti numero di porta altrimenti lo possiamo lasciare non indicata slash database ecco quando io mi collego al dbms ho vari database possibili anche quando lo facevamo lo facevate interattivamente il primo quando che si dava era use dizionario no? seleziona uno degli schema all'interno del quale lavorare ma qui lo facciamo già in fase di connessione mi connetto all'interno di un database il nome del database e poi una serie di property di opzioni separate col punto interrogativo nome uguale valore e commerciale nome uguale valore e così via secondo di quanto ci servono allora due opzioni ci serviranno di sicuro che sono il nome utente user uguale il nome utente mysql con cui mi voglio collegare e la password del database quindi questa è la stringa di connessione minima o tipica con mysql la sintassi è questa con altri database l'ordine o la modalità con cui si specifica l'host il database l'utente cambiano un pochino ma proprio a livello di separatori di caratteri ma sono cose minime uno li trova poi a vedere sulla documentazione del database che usa fatto questo siamo pronti per aprire una connessione al database allora siamo pronti proviamo a farlo anche davvero quindi io se non sbaglio un'ora fa avevo chiesto Eclipse di aprirsi ce l'ha fatta facciamo un nuovo progetto semplicemente un progetto java chiamiamo prova database database all'interno del quale ci possiamo mettere allora it polito tdp prova db e qui dentro ci creiamo una classe main in cui proviamo a fare cose e crea un main sì ok ok quindi stiamo dicendo che per aprire una connessione verso il database dobbiamo chiedere alla libreria gdbc di analizzare il contenuto della stringa che descrive la connessione caricare il driver gdbc opportuno e poi chiedere al driver gdbc di aprire una connessione cos'è una connessione? una connessione non è altro che un tubo logico che collega il mio programma col database e in questo tubo possono viaggiare avanti e indietro i dati le query quindi viene aperta la connessione questa connessione rimane aperta fino a quando non la chiudo quando non mi servirà più la chiuderò allora vuol dire che noi nel nostro programma possiamo mettere all'interno di un metodo di prova definire e quindi nel mio main non faccio che altro che è uguale new main test.run ok io quando scrivo un programmino non metto mai le istruzioni nel main perché? perché il main è un metodo statico quindi non mi permette di usare di salvare delle variabili di distanza non mi permette di chiamare dei metodi non statici e così via non mi ricordo se abbiamo già fatto questo discorso quindi ogni volta anche se voglio provare una sola una classe definisco un metodo normale non statico e il main non farà altro che creare un'istanza di se stesso e chiamare questo metodo su se stesso quindi qui dentro sono dentro un metodo di istanza volendo potremmo chiamare varie classi potremmo questo metodo usare le variabili di distanza che definiamo qua dentro chiamare altri metodi di altri oggetti non statici mentre invece all'interno di un metodo statico posso solamente lavorare con variabili e metodi statici che sarebbe un problema quindi si hanno due righe in più ma purtroppo Java per fare una cosa semplice ci richiede di scrivere tanto ok dentro questo metodo cosa dobbiamo fare? il problema è implementare due passi che abbiamo detto prima abbiamo una connessione una stringa di connessione che definiamo per collegarci al nostro database allora facciamo più spazio quindi sarà fatta come? abbiamo detto JDBC due punti MySQL due punti barra barra poi nome dell'host su cui gira il server eventualmente due punti numero di porta se dobbiamo aggiungerlo nome del database a cui ci vogliamo collegare adesso non mi ricordo più come si chiamava forse si chiamava dizionario eccolo qua localhost del server qui ci sono vari database definiti quello che voglio aprire per fare esempio semplice è quello che si chiama dizionario che in questo caso contiene una tabella sola ma potrebbe contenere 100 non cambia nulla in questa fase quindi dizionario e poi le credenziali punto interrogativo username uguale non ho creato altri utenti quindi usiamo per il momento l'utente root non è bello ma per ragioni di tempo accontentiamoci oggi e poi scusate era qua ah scusate user non username e che non mi ricordo mai quelli di main sequel hanno deciso di scrivere username abbreviato invece password per lungo io non mi ricordo mai se è username oppure se è password quindi è sempre diverso da come mi ricordo quindi user uguale root password uguale attenzione che lo sto scrivendo in chiaro tutti la vedono uguale root questa è la stringa che mi permette di accedere a questo database dal mio programma java quello che mi faccio di questa stringa la uso chiedendo al driver manager di darmi una connection 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 cos'è? è un oggetto di tipo java.sql connection come sempre non facciamoci ingannare dalle altre cose di altri package connection con uguale driver manager che è java.sql.driver manager punto get connection e questo get connection può essere fatta in modi diversi la più semplice è quella che riceve semplicemente una url come parametro quindi sarà la mia jdbc url allora qui stiamo allora questo scritto così ovviamente vedete il nome della classe punto metodo questo è un metodo statico della classe driver manager perché non abbiamo ancora creato nessun oggetto in realtà non c'è una new qua qui chiediamo alla classe driver manager che è un metodo statico get connection di pensarci lei a creare l'oggetto connection questo è un esempio l'avevamo accennato la settimana scorsa di un metodo di factory un metodo che crea un oggetto per me e mi dice ma perché non sei capace di creato da solo quell'oggetto no perché non so qual è non so mai SQL all'interno del suo package del suo driver come ha chiamato l'oggetto connection come ha chiamato la sua implementazione che deve implementare l'interfaccia di connection non lo posso creare io quell'oggetto quell'oggetto verrà creato in realtà dal driver JDBC di MySQL il quale di MySQL anche io non so come si chiama siamo andati prima a sbriciare dentro il jar ma a priori potremmo non saperlo e quindi chiederò a un'altra classe che è l'unica che conosco driver manager perché è quella standardizzata per favore vatti a cercare la classe driver e a questa classe driver chiedi di creare una connessione a me arriva un oggetto connection già bello che fatto o meglio un oggetto di tipo connection vedete che connection è un'interfaccia vedete la I blue non è una C verde come classe ma è un I blue come interfaccia quindi il vero oggetto che mi viene restituito non lo conosco non me ne può fregare di meno fin tanto che implementa i metodi della interfaccia connection poi questo si arrabbia perché cosa si arrabbia perché il metodo gate connection genera può generare un'eccezione di tipo sql exception ci sta cioè tutte le volte e qui purtroppo fichiamocelo nella testa tutte le volte che un programma comunica con l'esterno può sempre andare storto qualcosa e il database non sta girando e non è sul computer giusto e c'è il firewall che mi blocca e la password è sbagliata e su quel database non ho caricato sul dbms non ho caricato quel database e mia sorella quello che volete c'è sempre qualcosa che può andare storto quindi tutti i metodi che fanno input output generano eccezioni e noi con estrema gioia le gestiamo quindi sta cosa qua ma tutte le istruzioni diciamo così che toccano un database dobbiamo mettere dentro un bel try catch che vadano a gestire un'eccezione di tipo sql exception allora adesso lui è contento non ha più errori rossi quindi questo programma potremmo già eseguirlo e vedere che non vediamo niente poverini noi ma creerà un oggetto di tipo connessione quindi se faccio run che cosa succede? se faccio run succede che eh beh che ricevo un'eccezione che eccezione è? allora SQL exception è un'eccezione molto generica bisogna sempre andare a leggere cosa scrive dentro ok? ricordatevelo perché se non leggete cosa scrive pensate che il problema sia di un tipo mentre in realtà è completamente diverso in questo caso il problema è molto semplice cosa mi dice? apriamola no suitable driver found for e questa qua è la mia stringa di connessione no suitable driver found vuol dire ah ma scusa tu mi hai dato una stringa di connessione e io driver manager non sono riuscito a trovare nessuna classe driver che implementasse che fosse in grado di gestire quella stringa di connessione cosa fa il driver manager? il driver manager va a chiedere va a cercare in tutte le classi che trova in tutti i package che trova in tutte le librerie che abbiamo configurato quali sono le classi che implementano l'interfaccia driver java.sql.driver e a tutte le classi che trova che implementano quell'interfaccia le istanze le chiede senti tu gestisci il database di tipo MySQL e questa può rispondere sì o no la prima che risponde sì è lei e se la tiene la usa quindi ciò che è successo è che il driver manager ha cercato nel path di ricerca del class path di java e non ha trovato nessuna classe che rispondesse all'appello sei tu che gestisci le connessioni con i database di tipo MySQL eppure c'era l'abbiamo appena scaricata eh l'abbiamo scaricata ma non è accessibile a questo progetto java è in una cartella mia salvata da qualche parte ok quindi dobbiamo far sì che questo progetto java possa vedere il jar che contiene il driver jdbc di MySQL come faccio? beh posso fare in due modi se vado se vado nella proprietà del progetto all'interno di build path posso aggiungere il jar quindi lo rifaccio più lentamente database proprietà build path quindi il percorso con cui lui compila c'è una sorgente che dice dove sono i miei file ma c'è un tab libraries che dice quali sono le librerie a cui questo progetto ha accesso e quindi qui potremmo aggiungere external jar un jar che si trova da qualche parte dove l'ho scaricato il problema se facessi così è che dentro il progetto eclipse rimarrebbe registrata la cartella in cui io ho salvato quel jar poi voi vi scaricate il progetto ve lo clonate da github e sul vostro computer quel file non è in quella cartella lì e quindi non lo trova allora per evitare questo problema mettiamoci una copia tanto i megabyte non li paghiamo creiamoci una cartella che io chiamo lib all'interno del nostro database all'interno del progetto quindi non dentro source quindi dal progetto ho creato una cartella new folder che ho chiamato lib e dentro questa cartella ci copio una copia del jar di mysql e vorrà dire che ogni nostro progetto avrà dentro una copia di quel file dov'è che era? qua ci stiamo mettendo 2 mega di overhead all'interno dei nostri progetti vabbè pazienza no? come ho detto quindi io quello che faccio adesso è ho creato una cartella lib in cui mettere le librerie perché la prima che usiamo è questa qua ma poi durante il corso ne useremo delle altre prendo il jar e lo trascino dentro Eclipse dentro il progetto dentro la cartella lib Eclipse mi dice ma tu vuoi davvero copiare il file o vuoi solo mettere un collegamento alla posizione attuale del file? e lo voglio copiare perché il collegamento purtroppo si perderebbe se dovessi spostare il progetto su un altro computer lo copio e lui mi ha aggiunto questo file all'interno del progetto quindi adesso se faccio run non lo trova lo stesso perché non lo trova? perché ora ho semplicemente copiato un file dentro un progetto quel file poteva avere la ricetta di cucina del minestrone della nonna oppure il drive jdbc lui che ne sa devo dirgli ok devo dire ad Eclipse guarda che questo file è una libreria e io voglio che questa libreria venga aggiunta al percorso di ricerca delle classi il modo più semplice è andare direttamente sulla libreria qui finora è solo un file ok e fare libreria tasto destro percorso di ricerca build path aggiungi al percorso di ricerca se aggiungo al percorso di ricerca compare un'altra sezione qua nel progetto che dice le librerie non so come tra l'un italiano riferire le librerie a cui fare riferimento le librerie richiamate c'è questa quindi sono due cose diverse questo è un file questo qua invece è una libreria che è stata inclusa nel percorso di ricerca infatti se la volessi aprire vedrei dentro le classi contenute in questa libreria questa operazione di aggiunta al cammino di ricerca non è altro che una scorciatoia rispetto alla finestra che abbiamo visto prima del cammino di ricerca del progetto e vedete che infatti oltre alla libreria standard di java abbiamo aggiunto questa quindi avremmo benissimo potuto aggiungere da qua prova database e avrei potuto scusate no external jar avrei potuto aggiungerla anche da questa finestra ma è più veloce dall'altra parte quindi adesso finalmente se faccio run il progetto non fa niente ma non mi dà eccezione quindi finalmente allora per potermi collegare ho bisogno che la libreria sia parte del progetto e sia inclusa nel percorso di ricerca del progetto a quel punto quel poveretto di driver manager quando va a cercare la classe che gli serve la trova e non mi genera eccezione ok primo passo siamo davvero sicuri che sia collegato no perché potrebbe aver fatto niente di nascosto ma non dà eccezione ma per ora fidiamoci andiamo avanti o quindi abbiamo stabilito la connessione quindi ciò che abbiamo fatto proviamo a vedere le classi vediamo questo diagramma delle classi che è il diagramma delle classi generale del core di JDBC noi siamo qua application la mia applicazione ha chiamato sulla classe driver manager il metodo get connection il driver manager ha caricato una classe driver noi sappiamo perché siamo andati a sbirciare che la classe caricata è comp.mysql.jdbc.driver ma l'applicazione non lo sa questa classe driver su istruzioni del driver manager ovviamente crea un oggetto di tipo connection che sarà sarà comp.mysql.jdbc.connection può darsi non lo so questo oggetto connection viene restituito all'application quindi adesso l'applicazione ha in mano il riferimento a un oggetto di tipo connection e cosa può farci? vabbè può usarlo è un tubo che collega il mio programma con il database e in questo tubo posso infilare una query e mandarla al database e poi aspettare la risposta alla query che tornerà indietro sempre sullo stesso canale sullo stesso tubo sempre sulla stessa connessione con le altre classiche vediamo tra un secondo prima di passare al passo 3 siamo al passo 2 saltiamo in avanti al passo 6 appena tutte le volte che creiamo una connessione poiché la memoria è labile umana ricordiamoci sempre di chiudere la connessione perché aggiungiamo già connessione punto close allora il significato del metodo close è semplice se ho creato una connessione un tubo un canale di comunicazione lo chiudo lo abbandono ma voi mi dite ma a che serve tanto Java gli oggetti li riuso da solo alla Gerber's Collection perché devo dire un oggetto non mi servi più quanto mai ci è capitato nella nostra vita di programmatori Java di dire un oggetto non mi servi più mai perché sappiamo che quando un oggetto non è più usato Java dopo un po' è in grado di riciclare la memoria ma qui non è il problema della memoria dell'oggetto connection il problema è delle risorse che quell'oggetto connection aveva prenotato dentro MySQL dentro MariaDB cioè io quando apre una connessione MariaDB il database riserva della memoria per ricordarsi chi sono cosa stavo facendo quale transazione avevo in corso quale query avevo in corso eccetera eccetera quindi il database MySQL ha un numero massimo di connessioni supportate perché più di tanti client contemporaneamente non potrà gestire è un parametro che si può configurare dentro MySQL però le connessioni con un database sono una risorsa limitata non lato del client ma lato del server il server più di tante connessioni contemporanee non supporta allora è buona educazione ma non solo dire al database ok avevo aperto una connessione adesso non mi serve più in modo che il server possa liberare quelle risorse e quindi dare quelle risorse a un altro programma che avesse bisogno di collegarsi se voi vi dimenticate di chiuderla che cosa succede? allora succede che il programma Java termina ma al database nessuno l'ha detto magari il programma va avanti a fare altre cose magari dentro un loop avete tante query allora a ogni loop aprite una connessione nuova ma non chiudete mai quella vecchia allora cominciate a avere 1, 2, 3, 10, 100 connessioni col database e ad un certo punto il database vi dice basta anche se gli oggetti connessione precedenti non ci sono più perché chiudograffa l'oggetto scompare al database questo nessuno l'ha detto quindi vi trovate dei programmi ma capiterà prima o poi in laboratorio che dice ma la prima due volte funziona poi non funziona più perché magari hai delle connessioni che non hai chiuso e quindi a un certo punto prima o poi saturi il numero di connessioni verso il database questo lo possiamo vedere ad esempio attraverso IDSQL c'è un tab processi che ci dice quanti sono i processi noi li chiamo processi le connessioni attive in questo caso ne vede una attiva che in realtà è se stesso è IDSQL che ha mantenuto la connessione però potrebbero esserci più se abbiamo tante connessioni aperte le vedremo qua queste connessioni prima o poi scadono se nessuno le usa ma scadono quando muore il socket il socket non so se avete già parlato con l'ioi a un certo punto hanno un time out se nessuno li chiude esplicitamente e quindi quando il socket di rete muore ha un time out di 20 minuti 10 minuti quindi vi trovate con il database saturo nessuno lo sta usando ma lui sta aspettando che muoiano i socket poi Linux e Windows hanno time out diversi in modalità diverse di riciclare i socket non più utilizzati la faccio breve per evitare casini problemi di rete ricordatevi chiudere la connessione se vi capita di avere un database con 100 connessioni aperte o andate a prendere un caffè e aspettate che scadano oppure stoppate e riavviate il database perché visto che quegli oggetti java che hanno creato le connessioni non ci sono più perché magari il vostro programma è terminato morendo di brutto su un'eccezione non avete neanche più l'oggetto sul chiamare close quindi dovete andare giù pesanti al database e senti riavviati così perdi e ricicli quella connessione per questo conviene il mio suggerimento quando scrivo get connection già direttamente deve venire di prurito le dita e dire adesso devo subito scrivere close ok quindi qua in mezzo tra l'apertura della connessione e la chiusura della connessione posso interagire con il database come? dicevo è un tubo su cui mandare le istruzioni allora all'interno di un canale un tubo le istruzioni vengono inviate andate in ritorno con un meccanismo di navette piccoli shuttle che vanno e tornano questi shuttle queste navette prendono il nome di statement vabbè istruzioni sql quindi per fare una query io devo creare una navetta un contenitore all'interno di questo contenitore metteci l'istruzione e poi dire al mio driver gdbc manda l'istruzione nel database poi l'istruzione arriverà al database il database la esegue l'istruzione sql il database la esegue e mi manda indietro sulla stessa navetta il risultato quindi sulla stessa connessione possono esserci tante navette tanti statement diversi anche attivi contemporaneamente ognuno è separato dagli altri in termini di contesto quindi sono indipendenti non serve creare 50 connessioni se devo fare 50 query basta una connessione sola su cui fare più query diverse poi vedremo come fare a usarle dal punto di vista del pattern di programmazione allora mi serve creare un oggetto che si chiama statement ormai abbiamo capito la solfa quella statement lì non è altro che un'interfaccia interfaccia java.sql.statement e come faccio a creare un oggetto chiedo alla connessione factory costruisci un oggetto per me di tipo statement e lei mi restituisce un oggetto statement che sarà di tipo com.mysql.jdbc.statement forse l'importante è che implementi l'interfaccia java.sql.statement purtroppo non purtroppo è così nel senso che stiamo lavorando con oggetti che non possediamo che non conosciamo e quindi non possiamo mai fare new qui non abbiamo fatto mai abbiamo fatto new una volta qua lavoriamo con oggetti che qualcun altro ci ha costruito perché l'operazione di costruzione di questi oggetti è più complicata che semplicemente fare new e quindi mi devo affidare a un metodo di factory di costruzione una volta che ci abituriamo non è problema quindi chiedo alla connessione di crearmi un oggetto di tipo statement create statement ovviamente continuiamo a vedere che tutti i metodi che stiamo usando throws sql exception per quello sto scrivendo dentro il blocco try catch perché ciascuno di questi anche il clause che sembra innocuo ma in realtà se non riesce a comunicare con il database anche il clause può dare eccezioni quindi tutti questi metodi ogni riga che scriviamo potrebbe generare un'eccezione statement è la classe ovviamente java.sql.statement occhio qua a non importare cose a caso vedete che c'è un com.mysql.roba che non avremmo mai pensato .statement non è ovviamente quella che ci serve perché me la fa vedere eclips? eh ma perché la libreria mysql l'abbiamo messa nel build path e quindi eclips la vede ma non dobbiamo prendere quella dobbiamo prendere java.sql anche java.sql non c'entra niente quindi attenzione alla sintoma da click rapido e cosa me ne faccio di una classe statement? una classe statement è un contenitore all'interno delle quali posso fare delle interrogazioni ok allora dovrò costruire un'interrogazione che dal punto di vista del programma java non è altro che una stringa dal nostro punto di vista è un comando sql e usare un metodo execute query che è quello che manda effettivamente la query al database e la fa eseguire adesso noi lo stiamo vedendo come si lavora con una classe che si chiama statement tra dieci minuti vi dico che è meglio non usarla è meglio usare un'altra che si chiama prepare statement però vediamo prima la parte semplice poi dopo vediamo la parte migliore solo per mettere le mani avanti quindi di fatto devo scrivere una stringa che contenga un'istruzione sql ad esempio per farla facile un select di qualcosa allora andiamo visto che abbiamo qua un'interfaccia sul database creiamo una nuova stringa una nuova query qua e proviamo a scrivere a mano no? che ne so potremmo scrivere asterisco from parola e poi proviamo a far run e vediamo cosa ci dà oppure vogliamo tutte le parole che iniziano con z allora where nome like z per cento ad esempio e quindi facciamo run e ci darà solamente le parole che iniziano con z oppure le parole più lunghe non so dipende da che cosa dobbiamo fare allora conviene sempre prima le query che vogliamo fare provarceli interattivamente interagendo direttamente con il database e una volta che siamo sicuri che la sintassi è giusta e che la query tira fuori ciò che ci serve la possiamo poi prendere e copia e incollare dentro il programma java prima debagghiamo la query una volta che la query è a posto la trasportiamo nel programma e facciamo in modo che il programma la esegua ok ok ad esempio questa allora dobbiamo prendere questa query copio seleziona ctrl c copia e la salvo dentro una stringa java e qui dentro ci incollo questa istruzione allora secondo poi delle impostazioni di di eclipse quando io faccio incolla di un testo che è su più righe dentro le virgolette di una stringa può farti questa operazione qua di chiudere la virgoletta chiudere le virgolette più andare a capo a riaprire le virgolette oppure no è un'impostazione dell'editor di eclipse che a memoria non mi ricordo qual è per farvela vedere ma se cercate su google la trovate questi caratteri qui sono la capo allora noi non c'è veramente la capo lo cancelliamo allora attenzione quando cancellate o quando sistemate queste stringhe perché scritta così è sbagliata select asterisco from parola where nome like z per cento perché è sbagliata perché tra la a di parola e la w di where non c'è niente sono attaccati e quindi non lo risintassi c'è scritto parola where tutto attaccato quindi quando ripentiamo posto queste cose ricordiamoci sempre di mettere uno spazio in fondo ovviamente è rognoso perché lo spazio non si vede è facile da dimenticare e poi non capisci il messaggio d'errore dici syntax error nella query e tu la guardi 12 anni e ti sembra giusta e quello che non vedi è lo spazio che è invisibile ovviamente ok queste sono le query che vogliamo eseguire abbiamo decisa e poi chiediamo di eseguirla a chi allo statement esegui execute query che vuole ovviamente come parametro una stringa che è proprio quella che abbiamo appena creato quindi lo statement l'abbiamo creato qua è la navetta all'interno della quale abbiamo infilato lo statement SQL e abbiamo detto vai execute noi abbiamo detto execute al driver JDBC ma lui che ne sa lui non fa altro che prenda questo statement lo manda a MariaDB dall'altra parte del tubo e lui lavorerà il database lavorerà e restituirà indietro il risultato in un oggetto che si chiama result set indovinate un po' result set è un'interfaccia dentro java.sql e quindi di nuovo stiamo usando lo statement come una factory di risultati tutto così qua quindi abbiamo creato la connessione dalla connessione ci siamo fatti dare uno statement che è il veicolo di trasporto lo statement abbiamo detto quale istruzione vogliamo eseguire lui la farà eseguire nel database e il database ci ritornerà il risultato in una classe che si chiama result set quindi riprendendo il nostro diagramma delle classi avevamo l'applicazione che aveva ottenuto un riferimento all'oggetto connection su questo oggetto connection abbiamo fatto get statement e questo oggetto ci ha dato uno statement a questo oggetto statement noi applicazione abbiamo chiesto execute query e lo statement ha creato un result set e ci ha dato il riferimento all'applicazione quindi adesso l'applicazione ha questo oggetto di tipo result set che contiene il risultato della query contiene andiamoci piano questa query aveva prodotto produrrà quando la faremo eseguire 3629 righe e quindi chi ha progettato il JDBC dice sa che quando faccio una query il risultato di questa query potrebbe essere molto grande allora dal punto di vista del database non è un grosso problema perché il database lavora per insiemi insiemisticamente in modo relazionale fa quello va bene è il suo mestiere fa quello però visto che abbiamo un tubo una connessione magari anche non necessariamente sulla stessa macchina su un computer diverso ha senso quando faccio una query come risultato trasferire tutto il risultato tutte le 4000 righe quando poi magari all'utente al programma servono solamente le prime 5 e si sono risposti di no quindi il result set non è il risultato ma è un riferimento un oggetto che è collegato con il risultato il risultato vero e proprio questa tabella ce lo tiene in pancia il database il result set è l'oggetto che mi permette di consumare un po' alla volta quel risultato come saltiamo queste altre cose e vediamo dopo come con un meccanismo a finestra a cursore dice guarda tu hai una query che ha 4000 righe io non te le trasferisco tutte insieme ti rallenterai il programma inutilmente poi magari non ti servono non so a priori se ti servono tutte quindi di partenza non ti trasferisco nulla però ti do un oggetto del set che al suo interno implementa un meccanismo di cursore mobile un cursore virtuale che si muove sulla tabella virtuale dei risultati e quindi io posso questo cursore spostarlo a mio piacimento avanti o indietro e in ogni momento il cursore mi farà vedere una riga per volta della tabella quindi se voglio 5 risultati metto il cursore sulla prima riga e leggo il risultato della prima riga poi lo metto sulla seconda leggo il risultato della seconda riga sulla terza eccetera sulla quinta e basta la riga viene trasferita solamente quando sposto il cursore e quindi se io non spostassi mai il cursore sulla sesta riga i dati dalla sesta riga in poi non verranno mai trasferiti quindi è un po' essere parzialmente bendati perché è una tabella molto lunga ma ne posso vedere una riga sola per volta ma tanto poi in java non è che ne posso devo lavorare una riga per volta e quindi ho dei metodi per spostare questo cursore per mandarlo avanti per mandarlo indietro o per posizionarlo sulla riga che voglio io per capire quando è arrivato al fondo è una sorta di iteratore un po' strano poi però quando sono su una determinata riga ho bisogno di metodi per leggere i dati quindi l'oggetto statement implementa due famiglie di metodi quelli per spostare il cursore e quelli per acquisire i dati i dati quali? delle varie colonne della riga della sola riga su cui è posizionato il cursore in quel momento allora i metodi dopodiché il movimento del cursore è un po' strano nel senso che voi dite sei all'inizio della query appena fatta la query dove è posizionato questo cursore? uno pensa sulla prima riga del risultato no il cursore è posizionato prima della prima riga before the first dici ma eh? cosa c'è prima della prima riga? niente per definizione quindi il cursore è posizionato su una non riga che sta prima della prima poi ovviamente se voglio leggere la prima riga la prima operazione che devo fare è prendere questo cursore e spostarlo avanti in una posizione c'è un metodo next che fa proprio questo lo sposta avanti in una posizione poi dalla prima alla seconda next dalla seconda alla terza next e così via fino a quando il cursore non arriva non solo all'ultima riga ma alla riga dopo l'ultima quindi il cursore può assumere tutte le posizioni corrispondenti alle righe del risultato più due posizioni estreme prima della prima riga e dopo l'ultima riga allora oltre a qualche effetto alcolico strano uno dice ma perché non l'hanno pensata così male così storta non potevano dire che per default la prima posizione del cursore fosse posizionata sulla prima riga e attenzione noi abbiamo fatto una query SQL non è detto che ci sia risultato può darsi che il risultato della query sia fatto da zero righe se io avessi chiesto le parole non che iniziano con Z ma che iniziano con Z W H risultato c'è ma è fatto di zero righe e allora dire che in un set di zero righe il cursore si posiziona sulla prima riga non funziona avrei dovuto restituire una eccezione in questo caso ma non è un errore del programma se la query non ti restituisce i risultati quindi hanno inventato questa posizione fittizia prima della prima riga che funziona anche se la prima riga non c'è tu puoi avere un result set di zero righe e il cursore ha solamente due posizioni prima della prima riga e dopo l'ultima passa direttamente da prima della prima a dopo l'ultima perché in mezzo non c'è niente e tutto questo senza dare eccezioni senza avere neanche nessuna contraddizione logica o nessun caso particolare da gestire per quello dicevo che è un iteratore un po' strano perché il punto di partenza non è il primo elemento ok quindi i metodi per spostare questo cursore principalmente c'è il metodo next più importante poi ce ne sono una serie di altri che permettono di andare avanti di uno o due a una certa riga tornare indietro ma concentriamoci sul metodo next che data una posizione mi porta a quella successiva e poi mi restituisce un valore booleano che è vero se si è posato su una riga esistente è falso se il cursore si è spostato dopo l'ultima riga e quindi non c'è più niente da vedere quindi l'idioma classico per poter navigare questo cursore è qualcosa di questo tipo while result set punto next perché cosa succede? la prima volta che arrivo qua chiamo il metodo next allora il cursore è prima della prima riga quindi non c'è nulla da vedere il ciclo while valuta la condizione prima di entrare nel corpo quindi io valuto chiamo il metodo next prima di entrare nel corpo che se fosse un integratore normale mi sarei perso il primo elemento perché si è già passato il secondo ma visto che sono partito prima del primo non ho perso niente quindi la prima cosa che faccio è chiamo next e quindi eseguo il corpo del ciclo while sul primo elemento sulla prima riga del risultato se c'è se non c'è neanche la prima riga del risultato il next mi restituisce falso e quindi il while non viene seguito proprio poi eseguo il ciclo del corpo sulla prima riga il corpo del ciclo sulla prima riga quando l'ho eseguito sulla prima riga torno su richiamo next che mi passerà la seconda riga e restituisce true mi dice restituisce va avanti di una riga rispetto alla posizione corrente e restituisce true se la riga corrente nuova new current row è valida falso se non ci sono ulteriori righe quindi next va avanti c'è ancora una riga si restituisce true e quindi il while esegue il corpo proverà ancora ad andare avanti una volta in più a un certo punto next restituisce falso e quindi mi indica che il cursore è uscito dal result set e è nella riga dopo l'ultima quindi questa stranezza del movimento del cursore in realtà ci dà una semplicità notevole nella gestione del ciclo perché non devo pensare a casi particolari ho una riga sola ne ho zero ne ho tante viene tutto catturato quindi è stato progettato bene alla fine strano prima vista ma poi quando ci ragiono ringrazio chi l'ha pensato così e poi cosa ci faccio qua dentro leggo i dati i dati cosa sono i dati sono una tabella che in questo caso ha due colonne id e nome quindi io posso leggere l'id chiedendo al result set al result set a una serie di metodi get che servono a leggere la cella corrispondente alla colonna della riga su cui mi trovo quindi devo dirgli qual è la colonna che voglio leggere e che tipo di dato contiene l'id è un intero e quindi un metodo che si chiama getInt scusate leggimi questa colonna sotto forma di intero e qual è la colonna la colonna che si chiama id e poi posso avere il nome una parola come si chiama la nome appunto chiedo al result set di leggere sotto forma di stringa la colonna che si chiama nome il nome delle colonne è ovviamente una stringa un identificatore e poi posso chiamare le variabili interne al programma come voglio quindi dicevamo il result set ha i metodi per spostare il cursore e poi i metodi per acquisire i dati i metodi per acquisire i dati sono get qualche cosa get tipo di dato che voglio e tra parentesi il nome della colonna del result set che voglio leggere allora con questo giusto per verificare se è vero ciò che abbiamo fatto vediamo se è vero che riusciamo a stampare ad esempio anche solo scusate anche solo il nome che abbiamo letto l'id non ci interessa i nomi che corrispondono ai risultati di questa query effettivamente abbiamo tutte le parole che iniziano a zzzà fino al famosissimo zzzzzà voi pensavate che zzzurellone fosse l'ultima parola ma questo dizionario eventualmente zzzurellone è molto indietro ci sono tante belle cose dopo ok quindi abbiamo eseguito la query abbiamo iterato sui risultati della query acquisendo in una riga alla volta per ogni riga abbiamo estratto i dati che ci servivano quindi a questo punto id potremmo anche non leggerlo tanto non l'abbiamo usato per stampare e alla fine quando abbiamo finito di iterare ci siamo ricordati di chiudere la connessione ok queste sono le meccaniche di base le meccaniche di base sono sempre uguali che cosa cambierà di volta in volta la query che dobbiamo fare ovviamente e il tipo di elaborazione che dovremmo fare sui risultati della query ok per oggi ci accontentiamo di aver conosciuto qual è l'ultima parola dell'alfabeto domani andiamo avanti cercando di integrare meglio queste cose dentro il nostro pattern buon appetito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti